Come dicono, l'amore non c'è una verità in amore, no? Bene così. Noi ci auguriamo che sia felice, che stia bene, come stava bene prima magari sposata con il signore, stia bene con l'amore che ha con il suo compagno, benissimo. Si è innamorata di un uomo e così ha deciso di lasciare il suo ordine religioso, forse per iniziare una nuova vita, una scelta d'amore che ha portato però anche alla chiusura di questo monastero. È successo a Sansepolcro, Valtiberina, a Retina. La suora, una quarantenne, madre superiore, abitava nel monastero di San Bernardo Tolomei, assieme ad un'altra monaca, ultraottantenne e a due giovani novizie. La consorella è stata considerata troppo anziana per caricarsi sulle spalle le incombenze della vita in monastero. Così l'ordine religioso a cui appartengono le monache benedettine e olivetane ha deciso di chiudere il monastero, almeno per il momento. Ci dispiace che questo convento prima era un punto di riferimento anche per i giovani, c'era una bella mensa, c'era un bel posto di ritrovo e adesso non c'è più niente. Alla base della rinuncia al velo ci sarebbe stata comunque una crisi vocazionale che solamente poi sarebbe sfociata nella nascita di un amore. Secondo me dovrebbe essere persona libera, sia un prete che una suora non ci vedo niente di male ad avere una relazione con un'altra persona, anzi. Le consorelle al momento preferiscono non commentare la vicenda. Eh beh, lasciamo perdere, no? Perché se ne sta parlando troppo, non vogliamo lasciare nessuna... vogliamo essere così, nel silenzio, ecco, tutto qui. Ci chiudiamo nel dolore che è grande, ecco, un grande dolore, grande, grande. Il dolore per cosa? Per la chiusura? Per la chiusura, certo, certo.